L'M4 diventa totalmente pubblica, quindi il Comune acquisirà le quote dei privati? Allora domani l'assessore Conte riferirà in Commissione, quindi voglio che sia lui prima di tutto alla Commissione consigliare a spiegare l'operazione. Però, diciamo, dal mio punto di vista, nel mio credo rispetto al tema delle reti, credo che le reti debbano essere pubbliche, la gestione delle reti può essere privata, ma le reti, e questo io lo penso in generale per tutte le reti, quindi questa operazione va in quella direzione. Ci può aiutare anche sul tema dei conti, all'opposizione che si lamenta per la gestione di ATM, e io dico, se vi sta molto cuore ATM, chiedete al Governo di darci una mano, perché sui conti di ATM sono lì da vedere, ormai abbiamo detto tante volte, i biglietti di abbonamenti coprono il 45% dei costi e il contributo del Governo va sempre giù, quindi c'è ampiamente da fare. Questa comunque è un'operazione buona, ripeto, per i dettagli tecnici voglio che però prima l'assessore Conte, che ringrazio per aver condotto insieme a ATM questa operazione, riferisca in Commissione.